Obiettivo continuità. Dopo aver sfatato il tabù trasferto e conquistato la qualificazione ai quarti di Coppa Italia contro la Sampdoria il Catania andrà in cerca di conferme nel gioco e soprattutto nel risultato. Una vittoria domani alle 15 al massimino contro i blu cerchiati rappresenterebbe un passaggio decisivo nella crescita di una squadra che però per avere la meglio sui Doriani dovrà scendere in campo con la stessa rabbia e la stessa grinta delle ultime uscite. Insegue un altro risultato positivo sicuramente, insegue un'altra vittoria, insegue le prestazioni che l'hanno portato fino a qua e dobbiamo essere concentrati su questo, sappiamo che non è semplice e soprattutto confermarsi per cui dobbiamo raddoppiare gli sforzi per riuscire a confermare e produrre continuità di risultati, produrre continuità anche di risultati pieni. Maranne vuole un Catania compatto e però anche attento. La Samp di Ciro Ferrara infatti ha dato il meglio di sé lontano da Genova. I rosso-azzurri però dovranno fare a meno di Alejandro Gomez, infortunato e non convocato. In avanti quindi Bergessio, Barientos e Castro in difesa verrà sciolto solo domani il ballottaggio tra Bellucci e Spolli per un posto da centrale insieme alle grottaie sulle fasce Alvarez e Marchese. In mediana rientra Mariano Izco che agirà insieme a Lodi e Salifu, chiamato a sostituire lo squalificato al Miron. Dirigerà Piero Giacomelli di Trieste. Grazie a tutti.